Il prano è Diamante di Zucchero. Ben lontana dai tempi della guerra e della liberazione, è dedicata alla nonna di Zucchero che di nome faceva Diamante. È ambientata nell'immediato dopoguerra, quando la guerra è finita e molti paesini sono ridotti ad un cumulo di macerie. È domenica mattina e accanto a chi lavora duramente per ricostruire il futuro, vi è l'immagine di soldati e spose, ovvero mogli e mariti andati da poco all'altare, questi ultimi in uniforme, essendo l'unico vestito elegante che avevano. Storie che ho sentito spesso raccontare anche a casa, in quanto i miei genitori si sposarono appena prima del secondo conflitto mondiale nel 1939. spesso raccontare anche a casa, in quanto i miei genitori si sposarono appena prima del e per i fornai, pioggia sarò e pioggia tu sarai, i miei occhi si chiariranno e fioriranno in nevai. però, i miei genitori sono ri proprio in appena diUR alle città e i miei genitori 나와 vagamente, i miei genitori si Aspetterò che avranno i minari, più grande ti sembrerò e tu più grande sarai. Nuove distanze ci riavvicineranno, dall'alto di un cielo di amante i nostri occhi vedranno. Impareremo a camminare. Impareremo a camminare. Moltiplicare la nostra voce. Domenica. 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 passare insieme su un'altra esposizione ballare piano in controluce moltiplicare la nostra voce pensare in pace sui dati e spose domenica domenica del contesto del contesto induzione Grazie a tutti.